Conoscete tutti il mio impegno nel corso degli anni, sempre in prima linea per una lotta contro la salvaguardia dell'ambiente. Ebbene, forse i miei sforzi, le mie battaglie, iniziano a vedere i primi risultati. Non so se avete saputo, ma per combattere il problema della deforestazione, ben presto i volantini pubblicitari non verranno più stampati su carta normale, ma incisi direttamente sulle cortecce degli alberi. Questo è un grande segno di civiltà, è una speranza per noi giovani. Tra l'altro, come se non bastasse, nel nostro ombelico vivono migliaia di batteri, talmente tanti che tutti assieme potrebbero formare un ecosistema grande quanto la foresta tropicale. E allora cosa aspettiamo? Perché dobbiamo ridurci sempre all'ultimo momento? Uniamo i nostri batteri e andiamo a ripopolare le paludi. E questo è il mio obiettivo entro la fine del 2024. Magari in un futuro poi non troppo lontano potremo estrarre i volantini dalle nostre ombelichi. Chi lo sa? Io credo che tutti assieme ce la possiamo fare. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie.